Io sono d'accordo con te sulla stagione del Bari, su ringraziare i giocatori, però ovviamente vi metto anche nei panni dei tifosi, tifosi che vanno in trasferta, francamente a Livorno e nel secondo tempo soprattutto con il Siene e con la Juventus, la squadra non c'era, quindi comunque per forza di cui c'è una mancanza di rispetto verso la tanta gente che si muove e segue la squadra con passione. Sì, però io dico che ha ragione il telespettatore, il pubblico di Bari ha l'ennesima occasione per dimostrare la propria maturità, i 10.000 di Roma, i 7.000 di Genova che più volte ha richiamato Ventura, elogiato Ventura, hanno la possibilità di accogliere bene la squadra, poi io credo che se accoglieranno bene la squadra, la squadra dimostrerà sul campo quella volontà che magari in questi ultimi turni è venuta un po' meno involontariamente, quella flessione che hanno avuto, che cercheranno di superarla, ritengo che il pubblico di Bari ha un'occasione unica per dimostrare di che pasta è fatta. Cosa ti aspetti da quest'ultima tre giornata di campionato? Ci sarà la sfida con il Genoa, poi la trasferta di Udine, l'ultima interna con la Fiorentina, tre squadre che hanno poco da chiedere a me al campionato, quindi chissà, forse si potrà vedere almeno qualche risultato in più, no? Io mi aspetto qualcosa perché Ventura è troppo saggio e troppo esperto per non aver strigliato a dovere i giocatori. Lui da buon allenatore di esperienza, davanti alle telecamere, davanti agli addetti ai lavori, li ha difesi con il motivo della flessione, che però ci può stare fra l'altro, è un fatto fisiologico. Però credo che all'interno dello spogliatoio non sia stato così morbido, come è giusto che sia, perché poi nel chiuso dello stanzone è una cosa, davanti alla stampa è un'altra. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, buonasera, buonasera al giornalista De Peppo. Ascolta, io mi riferisco alle interviste o alle dichiarazioni che ha fatto il Presidente Matarese. Non è che fa, ne fa molte, però se noi andiamo a leggere attentamente ciò che dice, penso che sia un momento di riflessione per tutti. L'ultima intervista che ha rilasciato ha dichiarato che, praticamente, visto un po' gli infortuni a catena, visto che comunque avevamo raggiunto ormai la salvezza e visto che comunque il bar non si può permettere nei trenti della rosa i doppioni, diciamo, di un certo livello, è logico, tipo Milano, Inter o altre società che vanno per la maggiore. Quindi per me non fa una piega questo discorso. Secondo discorso, più che discorso, una sua dichiarazione, un mese e mezzo fa, lui disse, l'ho lessi sul giornale, sulla gazzetta credo, che disse, quando le cose andavano bene, mi pare, prima o subito dopo la vittoria con la Sampdoria, che siamo fiduciosi e siamo in attesa, lo disse lui, di buone notizie da Bruxelles. Questo cosa fa per noi tifosi? Ci fa aprire il cuore alla speranza, nel senso che molto probabilmente da quegli introiti potrebbe avere più respiro per fare una campagna. però di questo fatto non se ne parla più. Quindi vorrei sapere che cos'è che intoppa questo tipo di Bruxelles. Giancarlo, non è Bruxelles? Veramente è Strasburgo, sì, la Corte di Giustizia Europea. Beh, il risarcimento per Punta Perotti, però ancora non si sa nulla al riguardo, aspettiamo, vediamo quello che succede. Ma credo che al di là di questo comunque una certa programmazione la società del Bari debba farla perché appunto il campionato di Serie A dell'anno 21 sarà anche più difficile di questo passato. Bisognerà vedere se insieme a Lecce, che credo salirà dalla Serie B, saliranno squadre tipo Torino e Brescia. Speriamo di no, speriamo che almeno una delle due non salga e poi si trarranno le conclusioni. Un po' di pubblicità nell'ultima parte del Bianco e Rosso Tibi Sport, un'intervista a Meggiorini, ne parleremo anche tanto di calcio mercato, a tra poco. Terzo ed ultimo spazio con il Bianco e Rosso Tibi Sport, vi abbiamo promesso di parlare di mercato. Allora Giancarlo, tu sei un esperto un po' di questo mercato. Arriva il Genoa, ci sono tanti intrecci tra le due squadre. Beh sì, c'è Bonucci, c'è Meggiorini che è in comproprietà, c'è anche Paro che è in comproprietà tra le due squadre ed è in prestito al Piacenza, mentre Greco è del Genoa ed era prima in prestito da noi, poi è stato passato tra virgolette al Cesena, al mercato di gennaio. 4 milioni di euro, il rinuovo della compartecipazione di Meggiorini è un prestito, si parla di Schelotto ed Eder, questa è l'offerta del Genoa per Bonucci. Ti convince come offerta? Non sarebbe male comunque, no? Sì, non sarebbe male, ma non credo che arrivi uno fra Eder e Schelotto. È più facile che possa arrivare in prestito un centrale che gioca in Portogallo, un centrale brasiliano che si chiama Diego Angelo, che gioca nel Naval, nella Serie A portoghese. Comunque tutto a di là da venire la trattativa col Genoa, anche perché in questi giorni è anche deontologicamente vietato che le due società si parlino, perché c'è la partita domenica, anche se è la partita di domenica e ha poco da dire per entrambe le squadre. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Sì, chi sei Davide? Cristian. No, figurati vai. Senti, io volevo riprendere un attimino quella che era la polemica fatta praticamente la settimana scorsa su L'Angella. Sì. Io, a differenza di molti ascoltatori, voglio fare veramente i complimenti a come si chiama Antonio L'Angella. Sì, sì, Antonio L'Angella. Secondo me quest'anno ha contribuito a mantenere alte relazioni sociali nella squadra. Cioè, se voi lo vedeste nei locali notturni, la sera, bicchiere sempre in mano, pieno di femmine, cioè veramente professionalmente ineccepibile. Eh, vabbè. Usa lo sfogo, eh. No, vabbè, ci può stare. Io ritengo che sia soltanto rubandolo se prende a Bari. Grazie. Grazie, grazie Giancarlo. Che dire di L'Angella? Lui si è un po' tirato fuori da questa stagione e sarà uno dei prossimi partenti. Con un ingaggio, peraltro, pesante. Sicuramente. E a metà fra Bari e Udinese. Diciamo che l'unico risvolto positivo della sua polemica è che ha avuto almeno il buon gusto di fare polemica a giochi fatti. Avesse fatto polemica un mese e mezzo, due mesi prima, credo che avrebbe creato parecchi problemi. A metà tra Bari e Genoa, Riccardo Meggiorini. Se siamo pronti dalla regia andiamo ad ascoltare le parole dell'attaccante proprio pronunciate pochi minuti fa in conferenza stampa. Insomma, intanto sono entrato col gruppo, questa è la cosa più importante per me. Adesso ho notato che c'è una grande voglia di rifarsi da queste quattro sconfitte, a partire da domenica con il Genoa, perché insomma quattro sconfitte ci rodano un po' di fila. Era già successo precedentemente a febbraio e adesso faremo di tutto domenica per interrompere questa serie negativa. Adesso è un buon periodo, ho migliorato molto, sto molto meglio. Ieri ho fatto un aumento con la squadra, oggi anche. Mi sto riprendendo, dai. So che ci vorrà ancora un po' di tempo, però il peggio è passato. Probabilmente quando non hai obiettivi è difficile andare in campo con la stessa voglia di prima, quando ritrovi avversari che hanno obiettivi importanti ancora da raggiungere. Ci sta che magari molli un po' la tensione, così fai partite un po' sotto tono. Insomma, è un errore che ci può stare a questo punto del campionato. Ti aspettavi qualcosa in più, comunque il tuo primo anno in Serie A, quattro reti, forse qualche problema fisico ti è un po'... Nella seconda parte sicuramente. Qualche gol in più, un attaccante certo che li vuole fare sempre, però insomma, dai, io ho dato il massimo, questo sono sicuro di averlo dato. Cosa daresti per un gol al Genoa, squadra che peraltro dettina la metà del tuo cartellino? I gol sono sempre importanti, insomma, che vengano contro il Genoa, con la Juve, con altre squadre. Chiaramente mi farò il piacere vincere prima, poi il gol viene dopo, insomma. Tu sei a metà tra le due squadre, ma il tuo desiderio è comunque quello di proseguire la tua avventura con la maglia bianco-rossa? L'ho detto prima, adesso non ci penso e voglio pensarci a fine campionato. Adesso non è il momento giusto, perché non è proprio il momento adatto per parlare di queste cose. Avrei un desiderio però, no? Beh, che mi sono trovato bene quest'anno, questo sì. È stato un bel gruppo e mi sono trovato bene. Senz'altro, credo che il prossimo anno potrà dare molto di più e non dimentichiamoci un altro aspetto. Quest'anno è stato anche un po' penalizzato, tra virgolette, dall'infortunio di Kutuzov e dal momento in cui il bielorusso è mancato ha dovuto giocare un pochino di più per la squadra e un po' meno per fare gol.